Un omaggio alla tradizione alle eccellenze vitivinicole del territorio per un fine settimana in uno dei luoghi simbolo della storia di Castellana Grotte. Nuovo appuntamento con Borgo Rosato, la tre giorni dedicata all'enologia nell'ambito di piazze d'estate 2023, il cartellone di eventi estivi di Comune di Castellana Grotte e Grotte di Castellana SRL, che ora si sposta nel centro storico in largo San Leone Magno per un appuntamento che unisce enogastronomia con le postazioni dedicate al food e alle cantine per degustare ottimi calici di rosato e prodotti tipici. Cultura con la mostra fotografica sulla produzione vitivinicola locale a cura di Pasquale Ladogana e con i balli medievali e l'elestimenti scenici. Durante la tre giorni musica, concerti e DJ set con Samuel, frontman dei subsonica e Marina Ray sul palco principale di largo San Leone Magno. La Castellana che abbiamo in mente, la Castellana che stiamo cercando di disegnare, valorizzare tutto quello che è la nostra storia perché abbiamo già avuto modo di dire più volte, noi crediamo fortemente nell'identità del territorio. Il territorio di Castellana, straconosciuto per le sue meravigliose grotte, ha una sua storia da raccontare, da quella delle badesse a quella delle porte delle badesse a quella delle fanove. Tante cantine castellanesi che ci faranno assaggiare i loro vini migliori, anche perché i rosati di Castellana hanno una tradizione importante, ma soprattutto sono pluripremiati a livello nazionale. Avremo anche diversi ospiti, ci sarà anche il percorso che coinvolgerà tutto il centro storico sulle badesse, una storia che è stata legata a Castellana da oltre cinque secoli, dal 1266, quindi un evento a 360 gradi che vuole far rivivere il centro storico e rivalorizzare tutta la Castellana partendo dal cuore della città.